è partito l'audace andrà pomponi con i suoi 3.000 scatti ovvero un piccolo video pompo ancora 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 e ora appena imboccherà la primonello e la prima curva sentite che sinfonia ci farà pomponi pronti e ora il secondo anello è l'ultimo vedete lo ha lanciato all'arrivo l'audace andrà in spada Gianluca Checchini eccolo Gianluca Checchini